Però non mi ha ancora spiegato come è fatto l'occhio e come noi facciamo a vedere. Esatto. Allora sai che cosa facciamo? Intanto vi dico che cosa è l'occhio. L'occhio è una pallina, pesa come una ciliegia, esattamente come una ciliegia. Possiamo vedere un'immagine dell'occhio? Riusciamo a vedere un'immagine dell'occhio insieme ai miei amici? Bello, eh? Bello anche perché adesso farò una cosa insieme a voi. Proverò a scomporre l'occhio, così ve lo spiego bene. E riusciamo finalmente a capire come funziona l'occhio, vedete? L'occhio è fatto da tante parti. C'è la parte più anteriore, questa lente che voi vedete qui, che si chiama cornea. Immaginate la cornea come un vetrino d'orologio. È quello che vi fa vedere l'iride, il colore dell'iride. C'è chi ha l'iride blu, chi ha l'iride marrone. Noi lo vediamo perché la cornea, questa lente, è estremamente trasparente. Ma questa cornea è particolare perché è anche l'organo in assoluto più sensibile del corpo umano. Volete un esempio? Beh, se prendiamo una ciglia, la prendiamo e la mettiamo sul polpastrello, che pure noi sappiamo è molto sensibile. E poi questa ciglia la mettiamo nell'occhio, ci sembra di impazzire. Eppure sul dito quasi non ce ne accorgevamo. Bene, la cornea quindi è una struttura fantastica. Deve essere molto sensibile perché deve proteggere tutto quello che c'è dentro l'occhio, che è preziosissimo. Abbiamo visto l'iride e guardate questa lente. Questa lente è il cristallino. Cos'è il cristallino? È una lente che ci permette di mettere a fuoco a tante distanze. Io posso leggere il giornale qui e posso guardare lì in fondo se c'è un bambino seduto in platea. In questa cavità, e quella che noi abbiamo visto poco fa in scansione, c'è la retina. La retina è come se fosse la pellicola di una macchina fotografica. La retina è come se fosse la pellicola di una macchina fotografica. La retina è come se fosse la pellicola di una macchina fotografica.